ho realizzato una serie di test d'ingresso di religione che possono essere usati dagli insegnanti di religione con i propri alunni ogni test d'ingresso è formato da un certo numero di domande come vedete nell'esempio e in ogni documento in ogni file c'è anche una parte con le risposte alle domande ho realizzato un test d'ingresso per il biennio composto da 50 domande un test per le classi terze e quarte con 50 domande e un test per le classi quinte con 100 domande trovate tutti questi test d'ingresso di religione sul mio sito www.ilmiocorsodireligione.it